La foto dell'orso Juan Carrito sulle piste senza neve di Roccaraso è eloquente. Potrebbe essere un inverno con i fiocchi nella nostra regione, nel vero senso della parola, visto le presenze turistiche, ma sono proprio i fiocchi di neve che mancano. Dopo le sollecitazioni della politica regionale degli operatori turistici, l'assessore al turismo Daniele Damario annuncia che la prossima settimana ci sarà un tavolo per l'Appennino con il ministro Santanchè al quale parteciperà non solo la regione Abruzzo ma anche l'Emilia Romagna e la Toscana. Avremo un incontro, ho parlato stamattina col ministro, avremo un incontro sicuramente noi, Emilia Romagna e Toscana e vedremo se qualche altra regione si aggiungerà per discutere questo pacchetto di interventi. Il vertice, come detto, è previsto per la settimana prossima e tra oggi e domani, dice l'assessore, dal ministero si potrà avere conferma e la data ufficiale. Abbiamo richiesto al ministro Santanchè un tavolo per valutare una serie di interventi a favore delle stagioni sciistiche che purtroppo pagano questa assenza di neve. Un peccato perché veramente era un'annata da sold out qui in Abruzzo su tutte le stagioni sciistiche, quindi chiederemo un pacchetto di interventi per ristorare almeno in parte le perdite che hanno avuto tutti gli operatori del settore, quindi parliamo degli impiantisti, dei maestri di sci, degli albergatori. Chiederemo anche un pacchetto di interventi magari per poter intervenire con i nuovi sistemi di innevamento che permettono di sparare neve anche sopra lo zelo termico. Anche se i meteorologi non possono fare previsioni a lungo termine, sembra che qualcosa possa muoversi la prossima settimana, ma è ancora troppo presto per prevedere se i fiocchi torneranno quest'inverno copiosi. E poi c'è questo sogno dello ski pass unico. Ma sì, diciamo che ci stiamo lavorando, io l'ho detto in un altro intervento, il mio sogno è quello che uno compri uno ski pass per l'Abruzzo e poi scelga dove sciare. Ci stiamo lavorando, cercando di mettere tutte le sensibilità intorno ad un tavolo e vedere magari, non subito, ma se ci lavoriamo fra qualche anno riusciremo a cogliere questo obiettivo. Non resta che attendere l'esito dell'incontro con il ministro Santaghe. Già nei prossimi giorni amministratori e operatori sperano in buone notizie naturalmente sotto la neve.